Assessore Mazzetti, il colore sta invadendo le strade, le piazze di Gallarate con delle installazioni eclatanti che si stanno facendo notare già fioccano i selfie, i click, ma ci sono anche delle rane di mezzo, come mai? Sì, è una bellissima iniziativa che è nata direi spontaneamente perché la Cracking Art ci ha donato queste rane per una finalità sociale il progetto è partito tanti mesi fa quindi inizialmente c'era dietro un altro progetto sociale ma vista l'emergenza che stiamo vivendo abbiamo deciso che il ricavato di queste rane queste opere d'arte saranno interamente devoluti agli ucraini che sono arrivati nella nostra città quindi ci sembra un'iniziativa da sposare visto i tanti momenti di affetto dimostrati dai tanti gallaratesi ci sembra un'occasione anche per lasciare un ricordo di un'installazione fatta nella nostra città e soprattutto un ricordo di un bel gesto nel momento in cui una popolazione ha bisogno di sostegno e aiuto grazie a tutti Grazie a tutti.